anno 76 24 e 57 anni due sono di fondotoce uno di calasca castiglione sono le persone denunciate dai carabinieri forestali per bracconaggio in seguito ad un'operazione congiunta con la polizia provinciale gli accertamenti sono partiti quando gli agenti della polizia provinciale hanno rinvenuto una trappola metallica nei boschi di fondotoce per catturare ungulati di grosse dimensioni le possibili prede erano scarica gratuitamente l'app news 24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online è live 24 ore su 24